Un evento ricco di spunti, di confronti e di testimonianze, a mio avviso particolarmente centrato su un tema ampio come quello dell'HR o delle risorse umane e quindi credo di portarmi a casa alcuni spunti di pressione di confronto e particolare sul tema che ho potuto trattare che nel welfare, dove l'esperienza anche di aziende e nomi rinomati mi hanno permesso di valorizzare alcune esperienze mie ma anche di prendere spunto dalle altre.